Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con la cronaca sindacale FIMER. Il Tribunale ha deciso per l'amministrazione straordinaria il sindaco di Terranova Bracciolini, Sergio Chienni, ha commentato passo positivo perché consente di mantenere la continuità produttiva e lascia aperta la porta a futuri scenari. Il nostro servizio. Sarà amministrazione straordinaria. Il Tribunale di Milano ha scongiurato quindi il fallimento della FIMER, l'azienda di Terranova Bracciolini che produce inverter per il fotovoltaico. Quanto laddove non si fosse verificato questo, lo scenario sarebbe stato tutt'altro decisamente molto peggiore perché avrebbe spalancato le porte di una liquidazione, a quel punto la cessazione dell'attività, facendo diventare poi, rendendo facile preda tutta l'azienda, tutte le risorse, le persone e quant'altro, di eventuali anche tentativi di speculazione. Si intravedono così spiragli di luce tra le nubi di un'avvertenza che si trascina ormai da oltre due anni. L'amministrazione straordinaria è un ulteriore tassello in un lungo percorso e sicuramente non sarà privo di ostacoli, che sarà lungo e articolato, però consente quantomeno di avere una visibilità di un contesto più stabile, ovviamente con tutte le norme che regolano le procedure d'amministrazione straordinarie, ad un commissariamento per cui che presume di impone una continuità produttiva, una valorizzazione dell'azienda e in maniera tale possa essere rilanciata, a renderla appetibile poi anche sul mercato per un'eventuale cessione laddove una volta che commissari avranno ad impiuto, a quelli appunto sono gli obblighi delle procedure, stabilito bandi di gara con aste concorrenziali e poterla cedere a un migliore offerente che possa garantire solidità economica, piani industriali, livelli occupazionali e quant'altro. Lo scorso agosto il fondo di investimento Greybull McLaren aveva acquisito il 100% di FIMER, ad ottobre poi il giudice aveva dichiarato lo stato di insolvenza, facendo di nuovo sprofondare nell'incubo centinaia di lavoratori. Greybull McLaren non ha mai fatto mistero, l'abbiamo incontrata in diverse occasioni e ribadiscono, e noi di questo ne siamo molto ben felici, ribadiscono il loro pieno e convinto sostegno e ancora interessamento nei confronti della realtà. A Terra Nuova a Bracciolini intanto la produzione continua ad andare avanti anche se a regime ridotto. Ed è questa l'importanza, abbiamo sempre appunto evidenziato, la necessità inderogabile di mantenere la continuità produttiva, proprio perché in assenza di questa avrebbe impoverito ulteriormente lo stabilimento. Ancora cronaca sindacale per un'avvertenza che speriamo sia sulla strada della risoluzione, quella come dicevamo della FIMER. C'è invece un'altra azienda, la Comnet, i cui lavoratori hanno annunciato domani otto ore di sciopero, un presidio proprio nell'area industriale di fronte allo stabilimento. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Qui siamo in presenza di un'azienda che ha gravi problemi economici e di natura anche di liquidità e pensa di risolvere queste problematiche cercando di individuare una sostenibilità di impresa scaricando tutto quanto su una riduzione dei costi in merito alla forza lavoro. Incracceranno così le braccia domani i lavoratori della Comnet, otto ore di sciopero, un presidio davanti allo stabilimento nell'area alla periferia di Arezzo a seguito dell'avvio formale della procedura d'affitto di un ramo d'azienda. Un affitto e non di un'acquisizione, per cui già di per sé un'operazione che destra delle perplessità partendo da un'azienda che è stata acquisita di recente dalla Holding, che è proprietaria di Comnet, la quale quest'ultima azienda di fatto è quest'ultima che va a rilevare in affitto la Comnet. Per cui diciamo già le premesse di partenza ci lasciano una serie di perplessità e criticità in merito a una debolezza, una fragilità della situazione, non ultima che ribadiamo fermamente e quella della condizione economica di solidità di questa azienda non offre garanzie perché è molto traballante. Le ricordiamo che questa è un'azienda importantissima perché si occupa di un settore strategico come quello delle telecomuniazioni e dell'energia, per cui di fatto è proprio strategia nell'importanza del ruolo che svolge e come appalto indotto di principali committenti controllati appunto dal governo e sono Telecom, Enel, per cui parliamo proprio di settori strutturali e assolutamente importanti e strategici per il nostro paese. I sindacati avevano già avviato una mobilitazione presso il Ministero finalizzata all'apertura di un tavolo specifico del settore delle telecomunicazioni. L'azienda pensa di far questa fuga in avanti, anzi è supportarci in quel percorso, fa un'operazione in cui si va a battere notevolmente il costo della forza lavoro pensando in questo modo, in maniera maldestra, di trovare sulla pelle ai lavoratori la propria sostenibilità economica ed equilibrio dei conti. Ovvio che noi questa roba non possiamo condividere e ci opporremo fermamente in tutte le sedi opportune. Sono state riaperte in questa settimana, esattamente lo scorso 4 dicembre, le porte del dormitorio di Arezzo, la struttura situata in via Fonte Veneziana e gestita dalla Caritas Diocesana, fino al prossimo aprile, darà ospitalità a coloro che non possono contare su una dimora fissa dove trovare rifugio e protezione per la notte. Come censito anche nell'ultimo rapporto Caritas, da novembre 22 ad aprile 23 sono state compilate 63 schede personali corrispondenti ad altrettante persone ovviamente che hanno fatto richiesta di accesso alla struttura, un numero, specificano gli operatori, superiore a quello dell'anno precedente. E a proposito di persone che appunto non hanno un rifugio per la notte, torna in campo la Croce Rossa con l'iniziativa Mai Più Soli ad Arezzo, dunque al via il servizio delle unità di strada. Un tè caldo è una coperta, una parola è una mano tesa, piccoli gesti che nelle fredde notti scaldano coloro che non hanno un tetto sotto al quale ripararsi. Nel mese di dicembre ad Arezzo, oltre alle dimore invernali, in collaborazione con Caritas parte anche il servizio delle unità di strada curato dalla Croce Rossa. I volontari presidieranno il territorio municipale andando incontro alle persone che per le più varie ragioni non conoscono le opportunità di aiuto che Arezzo offre oppure decidono di non seguire percorsi di inclusione. Una lettura del territorio che tiene assieme lo spirito di solidarietà ma anche quello di sicurezza sociale, avvisando le forze dell'ordine qualora si presentino situazioni di possibile rischio. Il nucleo delle unità di strada della Croce Rossa Arezzo è a disposizione tutti i giorni dell'anno con due focus di particolare impegno, nel periodo invernale a causa della rigidità del clima e in quello estivo a causa dei forti picchi di calore. Sarà anche possibile segnalare la presenza di persone in disagio chiamando il numero verde nazionale della Croce Rossa 1522 specificando che la segnalazione arriva dalla città di Arezzo. Nel frattempo anche le porte del dormitorio di Via Fonte Veneziana si sono riaperte per dare a coloro che non possono contare su una dimora fissa dove trovare rifugio e protezione per la notte. E allora un servizio quanto mai necessario a quello della Croce Rossa anche perché ci stiamo inoltrando ed è ovviamente anche un frutto di stagione verso il periodo più freddo dell'anno. Intanto per domani c'è ancora un'allerta gialla emessa dalla Sala di Protezione Civile per Rischio Ghiaccio esattamente per le zone per quello che riguarda il territorio aretino del Valdarno Superiore, della Valtiverina e della Valdichiana. Qualche sporadico fiocco di neve potrebbe fare capolino dicono gli esperti nella giornata dell'8 dicembre anche appunto nel territorio aretino. Insomma staremo a vedere. Adesso invece cambiamo argomento, un riconoscimento unanime quello che arriva dalle Nazioni Unite per l'esperienza di Rondine e del suo metodo che mette al centro i giovani e l'educazione ad una leadership di pace. Sentiamo proprio il presidente di Rondine, Vaccari che appunto ha rilasciato questa intervista proprio durante, insomma questo momento davvero importante per Rondine alle Nazioni Unite. L'evento che abbiamo avuto qui al Palazzo di Metro a New York alle Nazioni Unite è un evento che ci conforta moltissimo perché è stato un grande riconoscimento per Rondine è stato definito un modello unico da rinforzare, da valorizzare e da esportare in tutte le società quindi non solo nei luoghi della guerra ma anche nei luoghi dove la guerra non c'è perché l'educazione è il grande strumento perché le persone tutte le persone possano portare un cambiamento quindi l'idea che la pace non è una teoria ma è una pratica possibile i giovani erano presenti in tanti questa è la grande bellezza tante voci giovanili di giovani che si impegnano completamente per la pace ovviamente i nostri giovani sono stati accolti perché il metodo che dissimula e scioglie e rende veramente così evanescente l'idea del nemico è un metodo di grande interesse per ogni persona E parlando ancora di studenti torna questa sera alle 21 di nuovo l'educazione civica su Arezzo TV la lezione in questo caso al liceo scientifico Redi di Arezzo verterà su Boom Economico e Tangentopoli il servizio se nessuno delle persone che ritengono di valere si interessa della cosa pubblica cioè non decide di sacrificare una parte del proprio tempo delle proprie energie per il bene di tutti per l'amministrazione della cosa pubblica ovviamente qualcuno lo deve fare se quelli meglio non lo fanno lo faranno con quelli peggio e questo qualche esempio c'è vediamo se nella prossima epoca storica cioè quella dei ragazzi che oggi mi ascolteranno qualcuno di loro, dei migliori tra loro abbia voglia di interessarsi invece di diventare consigliere comunale, consigliere provinciale, regionale, parlamentare comunque di dedicare parte di sé agli altri la passione per la ras pubblica è nata tanti anni fa una passione negli ultimi anni messa a disposizione dei più giovani e non solo l'associazione tra Tevere e D'Arno preseduta da Stefano Tenti sta infatti portando avanti nella scuola a retine un viaggio dell'educazione civica per comprenderne la sua importanza nella formazione di cittadini consapevoli ed attivi l'ultimo appuntamento al liceo Francesco Redi lo ha visto come relatore in un incontro dal titolo dal boom economico a Tangentopoli perché sappiano cosa è accaduto ai loro genitori e ai loro nonni forse non si può definire storia perché sono avvenimenti accaduti in epoche troppo recenti però raccontare una cosa, uno spaccato, un'epoca che ha fatto l'Italia come altre epoche ma molto recente che loro non hanno vissuto data la loro età ma di cui sentono continuamente parlare alla tv e comunque in tanti tipi di conversazioni ci è sembrata una cosa opportuna il liceo scientifico dove siamo in questo momento ha ritenuto di condividere questa opinione e infatti eccoci qua Una curiosità, sarà riaperto il chiosco davanti a Porta San Laurentino a tre anni dalla chiusura dell'edicola la struttura dovrebbe infatti diventare un punto di riferimento del quartiere di Porta del Foro e potrebbe anche ospitare un infopoint a beneficio di tutti i visitatori di Arezzo era stato proprio il rettore giallo cremisi Roberto Felici a proporre questa soluzione all'amministrazione comunale, un'idea nuova proprio per valorizzare una struttura altrimenti inutilizzata alla fine del mese scorso è arrivato appunto il nulla osta della giunta Ghinelli vedremo insomma poi quali saranno i tempi per renderla operativa siamo alla cultura, al teatro Signorelli, l'omaggio di Cortona a Maria Callas Era doveroso celebrare il centesimo anniversario della nascita di Maria Callas non potevamo esimerci da questo importante appuntamento Un omaggio a Maria Callas nel centenario della nascita al teatro Signorelli di Cortona a Callas 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 con le coreografie di Adriano Bolognino, Carlo Massari e Roberto Tedesco ed i danzatori della compagnia Opus Ballet Devo dire che io ho sempre amato questa grande, grande diva questo grande personaggio e quindi quale occasione migliore per omaggiarla Ogni coreografo ha portato in scena un diverso aspetto della vita e dell'opera di Maria Callas in un vero e proprio trittico coreografico Siamo felici che in questo spettacolo ci sia stata la possibilità di calarsi in tre scenari differenti quindi la difficoltà ma anche la bellezza secondo noi da interpreti del lavoro è stato calarsi in tre sfumature diverse di quella che è una donna una donna che tutti noi conosciamo un mito, la divina, l'unica e sola però non si parla solo di lei come artista ma anche di lei come donna nella vita privata o di mito che è rimasto nella mente di tutti noi e che si protrae nel tempo e come è rimasto Conoscere il borgo di Marcena attraverso l'arte è un museo a cielo aperto da scoprire camminando e passeggiando da soli o in compagnia anche in un'occasione speciale proprio come quella del prossimo weekend sabato 9 dicembre l'associazione Marcenando l'arte camminando invita appassionati, escursionisti e curiosi a immergersi nel piccolo borgo a 10 chilometri da Arezzo proprio alle porte del Casentino sono oltre 120 le opere installate in tre anni di attività e firmate da artisti aretini professionisti ma anche di chi con pittura e scultura si è cimentato per la prima volta ogni visita sarà condotta da una guida ambientale e farà tappa nel paese presso la Casa Museo Giallorenzo Palazzi una piccola Dependance carica di colore ed energia con 166 pitture esposte e adesso ci spostiamo invece a Cortona dove come sappiamo lo scorso 2 dicembre è stata inaugurata l'edizione 2023 del Natale di Stelle che vedrà il prossimo 8 dicembre il giorno dell'Immacolata una singolare anteprima del presepe vivente di Pietraia che sarà proprio nel centro storico di Cortona dunque nel giorno dell'Immacolata si terrà questa rappresentazione della natività in piazza della Repubblica alle 16 poi il tradizionale e bellissimo aggiungiamo noi presepe vivente di Pietraia si svolgerà nel borgo appunto della Valdichiana il 25 e il 26 dicembre il primo il 6 e il 7 di gennaio Quella notte a Betlemme questo è il titolo della mostra di presepi che sarà invece inaugurata venerdì 8 dicembre alle 11.30 presso il Palazzo del Podestà in omaggio agli 800 anni da quando San Francesco d'Assisi nel 1223 scelse Greccio per realizzare il primo presepe della storia siamo ovviamente a Montevarchi importanti artisti e collezionisti insieme a creazioni artigianali rappresenteranno appunto la natività la mostra resterà aperta poi fino al 7 di gennaio il quartiere di Porta Crucifera organizza un Natale sospeso per un Natale felice anche in questo caso l'inaugurazione sarà l'8 di dicembre e nella piazzetta proprio adiacente alla sede del quartiere Rosso Verde ci sarà un punto raccolta dedicato allo scambio chiunque potrà donare qualcosa vestito, cibi, giocattoli il punto raccolta sarà attivo fino al giorno di Natale una bella notizia perché parliamo di un neolaureato Niccolò Parnetti si è laureato dottore in scienze dei beni culturali all'Università degli Studi di Milano con la tesi archeometria e cenamica etrusca analisi sui materiali del complesso monumentale con il punteggio di 108 a lui ovviamente i nostri complimenti e siamo allo sport il calcio a retino insieme per Teleton l'iniziativa è in programma lunedì prossimo 11 dicembre 18 presso la sala degli arbitri dello stadio Città di Arezzo servirà a sensibilizzare gli addetti ai lavori, dai dirigenti a coloro che scendono in campo ai tifosi sulla ricerca finalizzata a combattere le malattie genetiche rare protagonisti saranno medici, ricercatori campioni dello sport come Giancarlo Alessandrelli, Ciccio Graziani o ancora il penna Santino Cherubini per un momento di divertimento la cosa bella è importante che hanno aderito molte appunto società sportive del nostro territorio ovviamente l'Arezzo Calcio l'Arezzo Calcio Femminile l'Olmo Ponte, la Fortis la Polisportiva San Marco Capolona Quarata, Tregozzano e Vicio Maggio prima del fischio d'inizio appunto degli incontri di queste società sarà ricordata la raccolta fondi in favore di Teleton e adesso parliamo invece del calcio giocato l'Arezzo Calcio Femminile si sta preparando ad affrontare il Brescia sentiamo ai nostri microfoni Mister Mike Un'altra partita difficile? Sì, a Brescia sì sono tutte difficili però no, abbiamo studiato la Brescia è una squadra che vuole giocare con la palla non è per caso non è un accidente che è settima in classifica sotto queste sei squadre il gruppo di sei quindi stanno fanno sì, fanno un lavoro serio però noi siamo qui a un campo sintetico questa settimana per preparare questa partita a Brescia che loro giocano in un sintetico sì il Brescia ha giocato tutta la stagione con questo rombo questo sistema un po' come la Lazio che mettono molti corpi nel centro campo e lasciano un po' le fasce quindi abbiamo studiato questo abbiamo in mente non cambiamo molto diciamo il nostro modulo perché anche dalla prima partita abbiamo sempre giocato con le lettere difensori che vogliamo trovare i spazi con il pallone un po' più facilmente però un po' chi mettiamo in che posizioni questo è fondamentale abbiamo iniziato a provare ragazze nuove in nuove posizioni per darci un po' più soluzioni in queste due partite prima di Natale è tutto per questa edizione del nostro telegiornale vi lascio allora la lezione di educazione civica organizzata da Intratevere Tarno questa sera il relatore sarà proprio il presidente dell'associazione Stefano Tenti e l'argomento sarà dal boom economico a Tangentopoli buona visione arrivederci a 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 Grazie a tutti.